Proseguono le indagini dopo la tragedia avvenuta nella palazzina in via Piave a Fasano nella notte tra domenica e lunedì quando Clelia Ditano, 25 anni, è morta dopo essere precipitata nel vano dell'ascensore facendo un volo di circa 10 metri dal quarto piano. Non si accorta che nonostante la richiesta la cabina dell'ascensore non era salita ma era rimasta bloccata al primo piano. Dopo aver posto sotto sequestro l'ascensore la procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Al momento l'ipotesi di reato è contro i gnoti, si tratta di un passaggio necessario per accertare se ci siano state responsabilità nella morte della ragazza e se siano meno riconducibili alle operazioni di manutenzione dell'impianto dell'ascensore. Per questo il pubblico ministero ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione utile a ricostruire gli interventi eseguiti nell'ultimo periodo in modo tale da accertare date, tipologia di attività e verificare se siano state riscontrate anomalie anche dopo la conclusione degli interventi. L'attività è stata delegata ai carabinieri assieme ai funzionari dello Spesal. Parallelamente sono state raccolte le testimonianze dei residenti nella palazzina sentiti dopo i genitori della ragazza. Determinanti potrebbero essere le dichiarazioni dell'amministratore della palazzina ascoltati anche gli amici della 25enne. La prossima settimana dovrebbe essere conferito in carico al medico legale Domenico Urso per l'autopsia. Ancora sotto shock la comunità di Fasano. Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia a scoprire il corpo senza vita della ragazza. Lunedì mattina è stato il padre dopo essere stato avvisato dalla moglie sul blocco dell'ascensore. Aveva inviato la chiamata ma la cabina non era salita. Nel frattempo non vedendo la figlia in camera e sapendo che doveva andare a lavoro in un B&B l'hanno chiamata al telefono e hanno sentito la suoneria provenire dal vano dell'ascensore.